Renato Mirai accompagna il migliore in campo, Battista ancora una vittoria per i Farijas, la seconda su tre partite giocate dalla nuova squadra. Renato, la squadra è ingranata benissimo insomma. Una squadra nuova, abbiamo rivoluzionato contro la partita contro la Virginia Lovers, finalmente la seconda vittoria, speriamo di arrivare ai play-off. Quindi puntiamo a salvarci, insomma quest'anno. Battista, questa partita raccontacelo un po' com'è andata, che era facile? Beh, è stata una partita molto combattuta perché non ce l'aspettavamo una vittoria così. Quindi gli avversari comunque mi hanno dato un po' di filo da torce. Sì, sì, anche se non erano tutti. Mi piaceva giocare meglio con tutti quanti. Va bene, va bene. Comunque tu continuerai a venire qui, quindi avrei ancora occasione per rifarti. Renato, tu a questo punto punti con questa nuova squadra alla salvezza e a cosa speri nei play-off? Magari c'è qualche squadra che preferisci incontrare più avanti. Vorrei incontrare il nuovo gioco per se rifare... Ti è piaciuto molto insomma quel derby? E segnare un gol contro di loro perché non c'è. Va bene, grazie ragazzi, ciao.